Amici, volevo condividere con voi questo spaccato di idea quotidiana. Mia madre mi sorprende positivamente perché mi annuncia di aver risolto il problema quotidiano a casa mia di mancanza sedie comprando a soli 6 euro su Amazon, quindi ottimo, 4 sedie utili per il cenale di Natale. Ora, allontaniamo un attimo la telecamera e capirete il motivo del video. Io non aggiungo nient'altro, 30 euro in totale.